Un ringraziamento particolare lo voglio fare a Luciano, nonno di Mattia, che con tanta sofferenza ma anche affetto ha ridipinto mettendo a nuovo questa panchina. La panchina bianca con una targa ai caduti sul lavoro, collocata a due passi dal comune di Montebelluna, è dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne, morto il 29 aprile scorso in un cantiere a Montebelluna. E ad Andrea Soligo, il 25enne, sposato con due figli, è rimasto vittima in un'azienda di tezze sul Brenta lo scorso 5 gennaio. Anna, sorella di Mattia, ha letto una poesia. Si lavora per mantenere la famiglia, si lavora per crearsi un avvenire, si lavora non di certo per morire. Abbiamo voluto questa panchina, ha continuato la mamma di Mattia, Monica Michialin, perché sia un segno visibile a tutti, basta parole, dobbiamo fare qualcosa di concreto. La panchina bianca vuole essere anche un messaggio per quei datori di lavoro, responsabili di questi omicidi, ai quali poco importa la sicurezza dei loro operai, preferendo il profitto e il guadagno alla vita umana. Alla cerimonia erano presenti Monsignor Antonio Genovese, il sindaco Andalberto Bordina, con diversi assessori e consiglieri comunali, i rappresentanti di CGL e CISL e di diverse associazioni, operai, cittadini ed amici. Tutti insieme per fermare le stragi nei cantieri. Ricordo che nel 2021, solo in Italia, sono stati 1.404. I sindacati presenti hanno richiesto maggiori controlli negli ambienti di lavoro e più personale, affidato allo SPISAL, il servizio dell'ASLA che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro. Servono atti concreti per affrontare il tema delle morti sul lavoro. Il primo atto concreto è aumentare il numero dei controlli e degli ispettori, della loro preparazione, perché se siamo sui territori per controllare i luoghi di lavoro, possiamo impedire queste tragedie. Cambiare l'approccio culturale a partire dall'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Lì abbiamo tutta la strumentazione per fare la prevenzione e la formazione per combattere questa piaga. Un tema tristemente attuale con la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto, il 21 gennaio, all'ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Lauzacco, colpito da una barra d'acciaio di 150 kg. Un pensiero Monica lo ha rivolto anche a lui. Ho pensato alla sua mamma e al suo papà di quel ragazzo. Ho pensato a lui, alle sue ali spezzate.